Nel recupero della decima giornata del campionato di eccellenza, girone B, la Samorese vince in rimonta per 3-1 contro un Russi che fino a dieci minuti dalla fine ha collato il sogno di spugnare San Mauro. La cronaca. Il primo tempo è caratterizzato da ritmi lenti, con i padroni di casa che faticano ad impostare il gioco. La prima azione si registra dopo 12 minuti, quando Camarà, partito dalla propria metà campo, offre a Bonandi un pallone da buttare in rete, ma il tiro dell'attaccante è ribattuto da Piolanti. Non succede nulla fino alla punizione concessa agli ospiti al 33esimo. Il tiro di Rinaldini esce di poco. Al 38esimo, Bonandi si fa spazio tra i difensori del Russi, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 47esimo, dopo aver commesso fallo su Domeniconi, Savelli viene espulso per doppia munizione. Le due squadre vanno a riposo sullo 0-0 e con gli ospiti in dieci uomini. Al rientro in campo, nonostante l'inferiorità numerica, è il Russi a sbloccare il risultato. Dopo soli tre giri di lancette, Rinaldini da fuori aria scodella per Manaresi, che di testa spedisce alla sfera alle spalle dell'incolpevole Zoffoli. San Maurese 0-Russi 1. Nemmeno un minuto e la San Maurese ha tra i piedi il pallone del pari con Angelini, che da ottima posizione calcia oltre la traversa. Al 13esimo ci prova Bonandi da fuori aria, incertezza di Gardini con il pallone che si impenna e finisce alto. Al 24esimo Angelini colpisce di testa da calcio d'angolo, ma ancora una volta la palla non vuole saperne di entrare. Cinque minuti dopo uno scambio in aria, porta Camarà a tu per tu con Gardini. La conclusione del giovane attaccante finisce a lato. Al 33esimo Bonandi trova il pari con un sinistro da fuori aria che non lascia scampo all'estremo difensore ospite. San Maurese 1-Russi 1. Nemmeno un minuto e Matteo Vitaioli con un tiro a giro batte ancora Gardini e completa la rimonta. San Maurese 2-Russi 1. L'1-2 micidiale non basta ai giallorossi e al 40esimo Camarà a Caleltrisse. Il lancio dalla tre quarti porta l'attaccante solo davanti al portiere ospite e con un potente destro rende vano il salvataggio sulla linea. Finisce 3-1 per la San Maurese. Finisce 3-1 per la San Maurese.